Procediamo con il prossimo panel e abbiamo il dottor Giordano Fatali, Presidente Advisor Board American Business School of Milan, buongiorno e benvenuto, e Luca Morandi, Direttore Generale con responsabilità della Geografia Nord-Sud Italia di Aon. Buongiorno. Allora, visto che il tema è intelligenza, verso la maturità digitale potenziare le competenze, parto dall'American Business School perché voi avete in qualche modo rivoluzionato, cambiato il modello delle business school, cioè siete partiti dall'interesse delle aziende, siete partiti dal mettere in primo piano e partire dall'esperienza delle aziende, prendendo come insegnanti, come professori, i grandi manager delle aziende. Quindi avete in qualche modo rivoluzionato un po' il modello delle business school. Sì, grazie. Intanto buongiorno a tutte e tutti e grazie al Presidente Di Stefano. Perché l'American Business School? Intanto ce l'ha detto anche il Ministro Crosetto. L'America in fondo è un esempio da sempre, dal punto di vista manageriale, di velocità, pragmatismo, azione. Il nostro Paese ha bisogno di queste tre competenze. E poi lasciatemi dire che intanto mi sto emozionando in questo convegno perché sento un'energia nuova e quindi c'è qualcosa che bolle in pentola. A mio avviso, e l'American Business School ha proprio anche questa visione, questa missione, è arrivato il momento di prendere posizione. Non si può più essere ambigui. È arrivato il momento, caro David, di entrare, perché ci siamo entrati, nostro malgrado, in un'era dicotomica che ci obbliga a scegliere da quale parte della storia vogliamo essere. Dobbiamo scegliere se vogliamo essere dalla parte delle democrazie o delle dittature, se vogliamo essere umani o essere disumani, se vogliamo essere costruttori o distruttori, se vogliamo essere progressisti o conservatori, imprenditori o, come dice il senatore Lotito, prenditori, innovatori o speculatori. Addirittura citazione per il senatore Lotito. Citazione, sì, perché dopo Platone c'è il senatore Lotito. Sì, un po' dopo, diciamo. Un po' dopo, un po' dopo. Quindi, se vogliamo agire per la vita o contro la vita. Quindi è arrivato il momento di prendere posizione, di agire, e io credo che, come imprenditori e costruttori, innovatori, amanti della vita, dobbiamo salire, noi imprenditori, al timone del nostro paese e dell'Europa. Mi piace citare una frase che tutti conoscete di Kierkegaard, secondo me molto attuale, che ci dice attenzione, alla guida della nave c'è il cuoco di bordo. Ecco, io credo che dobbiamo salire noi alla guida della nave, per questo l'American Business School, per questo vogliamo fare questa chiamata a donne e uomini competenti di questo paese per guidare le nostre imprese in questo, l'abbiamo sentito, scenario completamente in evoluzione. L'ha detto anche Federico Le Pru adesso, serve un'evoluzione continua. Ecco, l'American Business School ha proprio l'impostazione di creare un sistema formativo di competenze creato dalle imprese per le imprese. Quindi un po' disintermediare, se vogliamo, questo mondo del Business School che è troppo statico, che non crea le competenze che servono con la velocità di cui abbiamo bisogno e quindi dobbiamo ripartire da noi imprenditori. Noi cosa stiamo facendo? Come CEO for Life, e vedo tante amiche e tanti amici in sala, da quattro anni su Piazza Montecitorio, davanti al Parlamento, stiamo mettendo insieme centinaia e centinaia di CEO imprenditori per lavorare proprio. Voi avete creato proprio lì nella Piazza Palermo una specie di postazione stabile, no? Diciamo che è una sorta di presidio, di commissariamento, no? In realtà è un contributo che vogliamo dare all'azione governativa, ma l'American Business School ha proprio questa funzione e concludo, quello di mettere insieme le competenze migliori del Paese per creare una Business School che crei le competenze necessarie partendo direttamente da imprenditori e manager. Quindi un advisory board composto esclusivamente da imprenditori e manager che disegnano direttamente loro i piani di studio. Sapete tutti e sappiamo tutti quanto è difficile cambiare un piano di studi in un'università, una Business School, bisogna passare dal serato accademico, diventa... Allora, i tempi di approvazione dei nuovi piani di studio sono troppo lenti rispetto, l'abbiamo sentito stamane, dai cambiamenti così repentini che il mercato ci chiede. Allora, serve più velocità e questa velocità la possiamo ottenere accorciando la filiera decisionale. Quindi sono gli imprenditori, i manager che definiscono i piani di studio. Oggi pomeriggio ci vedremo con un primo incontro dell'avvisory board, ci vedremo di nuovo a Capri, ci vedremo a Montecitorio ad ottobre, per continuare a costruire tutti insieme quest'avvisory board che definisce i piani di studio e soprattutto può cambiarli in qualsiasi momento questo diventa necessario. Quindi cambiare un piano di studio dopo sei mesi, dopo nove mesi, se serve... Questa grande flessibilità è un po' la caratteristica del vostro modello di formazione. Grazie a Fatali. Amorandi, voglio in realtà riportarlo a un passaggio della relazione di Di Stefano proprio sulla questione dei dati, del contesto normativo europeo e italiano e i dati sulle competenze. Perché mi ha colpito quel passaggio in cui il Presidente dice beh, qui bisogna cominciare a decidere che cosa fare anche come Europa se vogliamo essere soltanto delle persone che in qualche modo creano le norme e in qualche modo pensano all'aspetto etico oppure se vogliamo cominciare anche a metterci le mani dentro. Partiamo da qua che mi sembra interessante. Certo, molto interessante. Buongiorno a tutti innanzitutto. Dal nostro punto di vista noi ci occupiamo di gestione dei dati per aiutare l'azienda a prendere le migliori decisioni in tema di rischi per cui sicuramente vediamo come la necessità di gestire e di raccogliere in modo più articolato e più professionale i dati sia fondamentale per poi arrivare a prendere decisioni migliori e da questo punto di vista anche l'intelligenza artificiale sicuramente sta aiutando nel migliorare la capacità di prendere queste decisioni evidentemente parliamo oggi anche dell'intelligenza artificiale è una grande rivoluzione è stato detto anche negli interventi precedenti ma credo che sia una rivoluzione ovviamente positiva difficilmente fermabile ma anzi che può dare un grande supporto anche da un punto di vista di sviluppo di nuove competenze e quindi anche di nuovi posti di lavoro non credo ecco ad esempio che sia un limite da questo punto di vista ma anche anzi le persone grazie alle nuove competenze che svilupperanno e anche alle nuove attività che vengono portate avanti potranno essere in grado di cavalcare le nuove iniziative legate all'intelligenza artificiale e per quanto riguarda la gestione dei rischi pensate oggi come la necessità di gestire i dati in modo più serio serve per gestire i rischi emergenti che ormai sono quasi quotidiani come quelli legati alle calamità naturali quindi i rischi meteorologici piuttosto che tutti i rischi legati alla cyber security questi temi se gestiti in modo corretto con le corrette competenze possono portare anche le imprese a evolversi e quello che noi stiamo vedendo in questo momento dal nostro osservatorio è che le aziende italiane sono sempre più interessate a questi temi sono sempre più interessate ad essere all'avanguardia nella gestione di queste informazioni quindi credo che sia molto positivo dal suo punto di vista su che cosa siamo in ritardo nella tabella di marcia beh siamo probabilmente in ritardo da da un punto di vista di condivisione di tutte quelle che sono le informazioni le strategie che possono essere portate avanti per appunto evolverci nella gestione del rischio stiamo evolvendo nella gestione anche del rischio legato alle persone per quanto riguarda la nostra azienda i rischi sono sia quelli tradizionali industriali ma anche quelli legati allo human capital quindi alle persone vediamo una costante sviluppo anche di interesse verso la gestione delle nuove generazioni di cui si parlava prima di nuovi bisogni sicuramente la pandemia ha cambiato la gestione del lavoro ma anche le nuove generazioni si diceva prima hanno bisogni diversi ecco non vanno demonizzati violentemente ma vanno gestiti e le aziende devono adeguarsi a questi nuovi bisogni vediamo anche da questo punto di vista un crescente interesse nella gestione evoluta di questi bisogni ecco voi avete anche un osservatorio particolare sui rischi da questo punto di vista i principali che ha visto ha incontrato nel corso di questi ultimi non voglio neanche dire anni perché ormai il tempo lo si calcola talmente visto le cose che accadono in momenti così brevi che è giusto prendere in considerazione l'ultimo periodo ormai questa rivoluzione costante ci porta poi a rivedere anche questi temi assolutamente di frequente per quanto riguarda l'intelligenza artificiale sicuramente abbiamo temi di responsabilità quindi rischi legati alla reputazione potenzialmente o alla gestione anche etica questo è chiaramente un dibattito aperto di questo tipo di tecnologia e di informazioni per quanto riguarda i rischi più industriali abbiamo temi che riguardano errate implementazioni delle soluzioni tecnologiche che addirittura abbiamo visto possono arrivare anche a bloccare l'operatività dell'azienda così sono rischi che vanno gestiti vengono fatti evidentemente degli assessment delle valutazioni per comprenderne la portata e poi decidere come gestirli se con soluzioni assicurative o non assicurative e per ultimo sicuramente ne parlavamo prima i rischi legati alle persone quindi come gestire al meglio l'evoluzione delle competenze il reskilling o l'upskilling di cui si parlava in un intervento precedente per continuare ad essere al passo Fatali vi è piaciuta questa campagna elettorale il giudizio che ha dato Di Stefano così poi dopo presentiamo Carlo Calenda che è già qui in sala leader di azione che sarà candidato a questa elezione europea il giudizio che dà Di Stefano giustamente la campagna elettorale diciamo così negli slogan non all'altezza delle sfide che abbiamo di fronte ma guardi le voglio rispondere davanti al presidente Calenda con una convinzione profonda io credo che noi dobbiamo portare questo paese verso un si dice in psicologia del lavoro un locus of control non più così esterno cosa voglio dire è troppo facile dire non mi è piaciuta la campagna elettorale si fanno promesse di cose che poi non vengono fatte non si parla dei problemi del paese vabbè questo l'abbiamo sentito e tu cosa stai facendo per il paese ecco quindi è troppo facile come dire sparare sui costruttori io veramente penso di toccare il cuore e la pancia di tutti noi non ne posso più di un paese in cui se tu costruisci partono i cecchini allora un paese in cui sei spinto a non fare nulla a stare fermo perché come ti muovi ti sparano i cecchini allora mi piace invece rispondere a questa tua domanda caro David che vorrei contribuire insieme a tutti a questa campagna elettorale per metterci a disposizione come imprenditori come manager noi abbiamo in CEO4Life e adesso anche con l'American Business School che stiamo lanciando centinaia e centinaia di amministratori delegati di imprenditori con noi ecco cosa stiamo facendo noi su piazza Montecitorio stiamo mettendo le nostre competenze a disposizione della politica non contro la politica posso dire noi siamo agli antipodi del Vaffa Day quindi quando con il presidente Walter Rizzetto piuttosto con tanti altri commissioni ministri ne incontriamo tutti i giorni tutti e anche i capi politici invito ufficialmente il presidente Calenda noi ci incontriamo non diciamo guardate spostatevi perché non capita nulla facciamo noi non è questo l'approccio l'approccio per rispondere alla sua domanda che è troppo posso dire la domanda stessa populista piaciuta o non piaciuta ma il nostro approccio è su cosa state lavorando su cosa state legiferando se volete possiamo metterci a disposizione della vostra azione governativa che è complicatissima mi ha sentito il ministro Crosetto che mi ha veramente impressionato per competenza e per convinzione per dare supporto all'azione governativa a chi ha questo compito questa responsabilità enorme mettendoci però a disposizione da enabler non in contrapposizione è un fatto di approccio allora tutti insieme per costruire un'Italia migliore noi diciamo sempre il CEO for Life e riportiamo questo tipo di approccio anche nella business school nell'America Business School a Milano che cos'è CEO for Life che cos'è l'American Business School a Milano l'Advisory Board è una chiamata a donne e uomini di buona volontà competenti su ciascuna materia a mettersi a disposizione dell'azione governativa solo così possiamo insieme costruire un'Italia migliore poi è piaciuta o non è piaciuta la campagna elettorale lo lascio di là e barra a quelli che non fanno nulla tutto il giorno va bene apprezzo questa pars costruens di Giordano Fatali io mi posso prendere e assumere come dire una parte di responsabilità la campagna elettorale parliamoci chiaro una parte di responsabilità ce l'hanno i media e anche noi per primi Calenda lo sa che ogni volta che ho il piacere di averlo ospito giustamente mi bacchetta e mi dice senti ma perché mi devi sempre fare queste cazzo di domande ti prego non dice se lo dice da solo non volevo dirlo perché mi devi sempre chiedere del generale vannacci guardate che meraviglia è l'una meno un quarto e non ho mai pronunciato quella parola ad esempio mi darete atto che anch'io ho fatto dei passi in avanti da questo punto di vista quindi c'è una parte che sicuramente compete a quello che anche noi giornalisti e sicuramente l'altra però è che siccome spesso comunque anche la classe politica ti propone delle cose quando uno dice fa una dichiarazione e noi siamo in qualche modo anche obbligati quindi io mi prendo la mia parte ne ha facoltà grazie di populismo però allora grazie a Fatali grazie a Luca Morandi siete stati anche molto concreti nelle vostre cose ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti